Gentili telespettatori, buona giornata. Ellie Schlein la prendono in giro pure nelle chat del PD. Whatsapp, Facebook... Quindi la prendono in giro anche tra di loro. Ormai lei è rimasta isolata assieme ai suoi yes men. Gli yes men, intendiamoci, sono quella gente che gira intorno ai potenti per opportunismo. Si sa mai che arrivi una poltroncina o vantaggi, ecco. Gli opportunisti, gli yes men, sono quelli che dicono sempre di sì al potente perché sperano di trarne vantaggio. Quindi intorno a lei è pieno di yes men, yes men si intende sia uomo che donna, è un modo di dire o dobbiamo coniugare tutto anche al femminile per il politicamente corretto. Comunque ci siamo capiti. Non la sopporta più nessuno. Solo a destra sono contenti perché la sua permanenza nel PD, a parte che è divertente, non fa altro che fare stravincere il governo. Anche se il governo non sta realizzando le promesse elettorali, il confronto con la Schlein fa sentire gli elettori di centrodestra abbastanza soddisfatti. Doveva andare a Bruxelles non c'è più andata, mezza depressa perché dalla sconfitta elettorale. Ma poi tu programmi un viaggio il giorno dopo le elezioni? Ma dai su! O capisce anche un bambino che il giorno dopo delle elezioni importanti non vai da nessuna parte ma devi cercare di capire cosa è successo nel partito comunque. Però non c'è proprio un vero e proprio processo al leader ma ci siamo vicini, stiamo andando su quella strada perché emergono già abbastanza consistenti le critiche. Perché lei parlava minimizzando il governo, accusando il vento di destra che si era fermato, invece poi il vento di destra è tornato. Conte e Calenda che sono concentrati a erodere al PD un po' di voti non riuscendoci. Ecco, un PD plurale serve, un PD che non si scopra né da una parte né dall'altra, che torni a fare il PD. Insomma quello che manca al PD è che non è il PD. Ecco, la vocazione maggioritaria che parli a tutti, anche ai moderati, non solo agli estremisti di sinistra. E' così. Schlein è stata eletta da un elettorato che non rappresenta il PD. Questo era il sospetto, che quelli che l'hanno eletta, voi sapete che alle primarie del PD si poteva andare a votare tutte le volte che si votiva, bastava cambiare seggio. C'è un europarlamentare della Lega che nel suo paese è votato cinque volte, in cinque seggi differenti. Quindi capite che la Schlein è stata eletta da un elettorato che non rappresenta davvero il Partito Democratico. Quindi c'è una capa da centro sociale quando il PD non è da centro sociale, parliamoci chiaro. E così i nodi poi vengono al pettine. Ecco, l'appello contro la maternità surrogata, siglato da diversi esponenti del partito, da diverse aree. La sconfitta di Ancona dopo 30 anni. Morani a libero spiega che la batosta più pesante è un problema grosso, deve indurre a una riflessione. E poi dice che in politica esistono delle regole. La prima è che devi avere un partito unito, saldo, forte. La seconda è che attorno al tuo partito devi avere un'alleanza con le stesse caratteristiche. Se ti mancano tutte e due le cose l'esito è scontato. Onestamente, dice la Morani, non si possono addossare tutte le colpe a Enlischlein, ma bisogna cambiare rotta. Anche perché se non si comincia mai ad addossare le colpe. E si dice che è sempre colpa di qualcun altro, che è colpa di quello di prima, che io non centro niente, io sono appena arrivato. Perché questi dicono di essere appena arrivati fino al giorno prima delle loro dimissioni, che ti dicono, mi sono dimesso. Fino a ieri ero appena arrivato, adesso è finito il mio mandato. Anche Beppe Sala dice la stessa cosa, il PD nei maggiori comuni supera il 20%, ma non può badare soltanto al suo risultato, perché poi perde e perde perché non c'è la coalizione. Beh, intanto vi racconto anche che nel Partito Democratico sono i tweet nelle chat private del partito. Un tweet durissimo di Elisabetta Gualmini, eurodeputata d'EM, che dice La Schlein dice no a tutto, no al taglio del cuneo fiscale, no al premierato che avevamo lanciato noi, no a tutto, aggiungendo che al governo abbiamo i fascisti, le nostre proposte non si capisce quali siano, come si fa a convincere gli elettori. Massimo Roncucci, segretario comunale di Siena, dice pur essendoci responsabilità diffuse presenterò le mie dimissioni per favorire il processo di rinnovamento del PD. Anche Eugenio Gianni, presidente della Toscana, dice io avrei voluto e vorrei un PD più umile, che si presti a larghe coalizioni, a rispettare l'altro, che sia più moderato e più a sinistra, in modo da presentarsi con un fronte più unitario. Questo ancora talvolta non avviene. Lei, La Schlein, sta cercando di capire come uscirne, ci basta raccontare quattro frottole come ha fatto fino adesso, magari un rimpasto della segreteria, una costituente, dice datemi tempo, dice la Schlein, datemi tempo, datemi tregua, è ingiusto che mi stiano tutti addosso, lei non vuole problemi, dice ma cosa volete? Per molti politici, arrivi al potere, dici sono arrivato al potere, comando io, ma cosa comandi? Niente, non statemi addosso, lasciatemi in pace. Eh no, quando hai poi una responsabilità devi portarla avanti, devi farti carico della responsabilità. Perché mi state addosso? Quando un partito perde dieci a tre, nove a tre, altro che starti addosso, dovresti dare le dimissioni immediatamente, questo è il punto. Ma lei dice datemi tempo, è ingiusto che mi state tutti addosso, si sfoga con i suoi, mentre cerca di capire una via d'uscita, magari alla Conte e Mascetti in amici miei, come se fosse Antani sbiliguda, tapia tapioca, pulitina, coi fuochi fatui. Ecco, probabilmente sta cercando qualche frase ad effetto per raccontare qualche mezza frottola, così da non far capire esattamente quello che dice. Comunque, grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti, arrivederci a tutti e buona giornata.